Buongiorno ragazzi, questo è Epni e benvenuti ancora una volta sul mio canale ad un nuovo vlog da tanto non faccio vlog, molto molto sì, sono tagliato i capelli dall'ultima volta non badate all'Opabushi style, lasciate perdere comunque ragazzi, che vi volevo dire? allora, oggi è domenica e si prospettano due settimane molto difficili quelle che arriveranno a seguire perché a scuola, per quanto mi riguarda, cominciano le prove degli esami, le simulazioni d'esame e quindi insomma, dovrò mettermi un pochino più sotto in confronto magari ai giorni precedenti però non volevo parlarvi di questo in questo video, ma volevo proporvi alcune cose allora, sto vedendo ultimamente, vabbè, che solo FIFA e Call of Duty alternati fra di loro un po' magari iniziano a venire a noia quindi mi caratterrebbe davvero ricominciare anche a fare Minecraft e magari anche altre cose quindi, cosa sono qui oggi per chiedervi? allora, qui sotto, voi potete lasciare un vostro commento non so se lo sapevate con scritto quello che volete, ok? quello che vi chiedo oggi è di, insomma, lasciare tanti commenti relativi a vari argomenti che adesso vi spiegherò allora, per quanto riguarda la varietà di video da poter fare sul canale mi piacerebbe ricominciare a fare il fact time quello dove rispondere a vostre domande quindi, se avete domande lasciatele qua sotto e non guastano mai sono sempre disposto per rispondervi che mappa o modalità vorreste che io facessi su Minecraft? vi prego di evitare gli Angel Games perché non sono riuscito a far funzionare il mio account sugli Angel Games quindi, qualcos'altro se vi volete parcage o una mappa survival così mi farebbe piacere che me lo diceste me lo scriveste me lo scriveste me lo scrivereste me lo scriviamestaste non ce l'ho lasciato scritto qua sotto e... vabbè Call of Duty Road to Commander continua ovviamente le partite su FIFA ricomincerà cioè, continueranno a parte che adesso, in questo momento preciso, non ho squadra però sto facendo un bel po' di crediti adesso, se volete, vi spiego anche come e... quindi, anche quello proseguirà ci saranno, quando farò la nuova squadra partite di pivnage totale senza formazioni strane ma solamente a ras totale spaccare le gambe al nemico e poi, se volete, magari altri giochi come possono essere quei flash game davvero bellini che si trovano online io, va sono veramente disposto a farveli molto volentieri perché, per me non ci sono problemi per variare potrei fare di tutto però, bisogna anche insomma, che siano giochini che vi piacciono cioè, ad esempio, quando feci Happy Wheels nei secoli dei secoli a molti piacque però, ad altrettanti non piacque e quindi smisi di farla per questo motivo e, nulla questi erano i principali aggiornamenti su quello che riguardava il canale nei prossimi giorni quindi, se voi collaborate magari scrivendomi quello che vorreste vedere possiamo venirci incontro altrimenti non so come potremmo fare possiamo fare un torneo di razzle così ecco prima che mi dimentichi allora per il torneo di FIFA che volevo organizzare è un macello se facciamo come ho detto l'altra volta ovvero con voi che mi scrivete il vostro nome se mi scrivete il vostro nome insomma sotto la chat cioè, sotto il messaggio qui sotto nei commenti sarebbe meglio se andate nella pagina Facebook ok e in un post che vi lascerò apposito voi scrivete l'username della vostra Playstation con il quale vorreste partecipare così io a quel punto posso organizzare diciamo le estrazioni che farò comunque da assenza video perché non credo ci sia il bisogno e di conseguenza una sorta di gironi con tutte le sfide uno contro uno con chi vince Regna e alla fine chi vincerà il torneo non vincerà niente e vincerà il torneo però non si fa per divertirsi magari metterò semifinali la semifinale la finale sul canale se sarà possibile se coloro che arrivano appunto in queste fasi avranno la possibilità di registrarlo per me sarebbe una cosa davvero gradevole quindi qua sotto in descrizione trovate il link della pagina mi raccomando andate lasciate un mi piace e commentate il post relativo al torneo di fifa scrivendovi partecipo al torneo e il nome dell'account playstation network col quale vorrete partecipare mi raccomando puttana merda e poi volevo dire basta dovrebbe essere finita la novità se non sbaglio 5 minuti veramente tanto facevo un vlog mi mancava la mia bellissima guaccia la novità Grazie a tutti.